Emergenza Cinghiali, la giunta di Regione Lombardia ha approvato una delibera per estendere nelle zone di montagna soggette a vincolo idrogeologico l'indennizzo per i danni ai prati causati dagli ungulati a tutti i proprietari e anche non imprenditori agricoli elevando al tempo stesso il massimale di rimborso da 15.000 a 20.000 euro. Una decisione promossa dall'assessore regionale all'agricoltura Fabio Rolfi e annunciata dal presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi. A supporto è stato deliberato anche un contributo integrativo a beneficio di tutti i territori provinciali escluso Sondrio di 244.000 euro, spiega Fermi. Le somme erogate potranno essere utilizzate anche per l'acquisto di attrezzature e mezzi funzionali allo svolgimento dell'attività di vigilanza faunistica e venatoria. Colpita dal fenomeno in particolare è l'area comasca della Valle d'Intelvie e dell'Olgiatese dove quest'anno sono stati abbattuti il 40% dei cinghiali uccisi in Lombardia. Soltanto la settimana scorsa migliaia di agricoltori e allevatori provenienti anche dalle province di Comelecco hanno manifestato a Roma per sollecitare un intervento del governo. Abbiamo chiesto che la possibilità di partecipare all'abbattimento coinvolga sempre di più gli stessi proprietari terrieri interessati dalle invasioni, dice il presidente del Consiglio regionale. È necessario reintrodurre e qualificare per l'attività di controllo numerico la figura dei guardi a caccia volontari e rinforzare gli organici della vigilanza ittico-venatoria della Polizia Provinciale. Ora è tempo che il governo passi dalle promesse ai fatti, conclude Fermi. Prevenire costa molto meno, la montare delle spese per i danni causati dai cinghiali è in continuo aumento e ricade sulle tasche dei comuni e dei cittadini.